Sei spesso afflitto da pensieri negativi e circondato da un'atmosfera oscura? La preoccupazione cronica è un'abitudine mentale che porta a pensare in modo negativo generando ansia riguardo al futuro. Imparare a interrompere questa abitudine è fondamentale per vivere una vita migliore. Seguimi perché ti spiegherò come puoi iniziare a liberarti da questa condizione. Quando riuscirai a farlo i benefici nella qualità delle tue relazioni e della tua vita saranno chiarissimi, evidenti. Ma cosa significa preoccuparsi in modo cronico? Ad esempio immaginare che gli altri pensino male di te ogni volta che commetti un errore o preoccuparsi costantemente per la tua salute, la tua sicurezza o quella delle persone a te care. Questa eccessiva preoccupazione può rendere difficile prendere decisioni e ti spinge a procrastinare. Le conseguenze dell'eccessiva preoccupazione sono diverse, sono molteplici. Vivere costantemente nell'incertezza, nella paura di sbagliare. Questo ti porta a fare meno cose o a farle in modo insoddisfacente. L'overthinking o eccesso di pensieri è un'attività mentale eccessiva, ripetitiva e intrusiva. Le persone che soffrono di overthinking analizzano successivamente le situazioni, si concentrano sui dettagli insignificanti e immaginano continuamente scenari negativi. Questo processo è accompagnato da costante preoccupazione, da ansia, da dubbi, indecisione. Ecco, rendono la vita estremamente difficile. La preoccupazione cronica può provocare stress e ansia. Sicuramente può minare la fiducia in se stessi, l'autostima e generare procrastinazione e difficoltà nelle relazioni. Inoltre può influire negativamente sul sonno, causando insonnia e difficoltà a riposare adeguatamente. Ecco, se ti riconosci in almeno una di queste caratteristiche, restiamo insieme perché ora andremo alla scoperta di alcune soluzioni. Prima di tutto è importante riconoscerla la preoccupazione cronica. Ammetti di essere preoccupato di non riuscire a dormire a causa dei pensieri incessanti e di avere un atteggiamento mentale negativo. Ammettilo. Ecco, questo non significa che tu sia sbagliato, ma indica la volontà di migliorarti partendo da un punto che richiede miglioramento. Un'attività utile potrebbe essere scrivere ogni giorno un diario in cui annoti i tuoi pensieri negativi e abituali. Ecco, questo ti aiuterà a renderti conto del peso emotivo che porti dentro. Tuttavia è importante sapere che la preoccupazione mentale non si risolve con il ragionamento logico, e come di solito accade, o il contrario, cercando di non pensarci. Occorrono strategie e interventi potenti, efficaci, che agiscano profondamente dentro di te. Una pratica efficace per allontanare le abitudini negative, creare nuove abitudini positive, è la riprogrammazione mentale. Questo significa rieducare la mente, rieducare la tua mente, ed è l'unico metodo veramente efficace per superare la preoccupazione cronica. Questo processo richiede, sicuramente richiede tempo, è un approccio che richiede specificità, deve essere personalizzato. Puoi ottenere supporto dai coach specializzati nel metodo in cima, che saranno disponibili a conoscere la tua situazione e suggerirti i primi passi da compiere. Un primo esercizio che puoi praticare è quello del momento preoccupazione. Fissa un momento specifico in cui ti concedi il tempo per preoccuparti, e scrivi su un foglio tutte le tue preoccupazioni. Dopo questo momento cerca di allenare la fiducia e l'atteggiamento mentale positivo. La pratica quotidiana della mindfulness e della meditazione di consapevolezza può aiutarti ad aumentare la tua capacità di vivere nel momento presente, perché ti permette di lasciare andare i pensieri negativi e ti permette di concentrarti su ciò che desideri. Se desideri un supporto più strutturato, puoi richiedere una consulenza gratuita con un coach senior del metodo in cima, o provare programmi di meditazione, di visualizzazione guidata come il Mind Restart o Eight Minute Mindfulness, che offrono visualizzazioni guidate personalizzate per la riprogrammazione mentale, addirittura personalizzate con il proprio nome. Ecco, ricorda le parole di Mark Twain, sono un vecchio e ho conosciuto molte preoccupazioni, ma la maggior parte di esse non è mai accaduta. Se il video ti è piaciuto, condividilo.